Giugno, mese di sport e giochi. Da lunedì scorso i cittadini più atletici e i bambini hanno potuto riprendersi i propri spazi. Dopo la chiusura forzata a causa dell'emergenza coronavirus, il pistino ciclopedonale Franzin ha riaperto i battenti. L'area esterna della piscina comunale, dotata di attrezzi ginici e giochi per piccini, è accessibile ora tutte le mattine dalle 7 alle 10 e ad esclusione della domenica anche nel pomeriggio dalle 17 alle 22. Rispetteranno invece gli orari 8 e 30, 12 e 30 e 16 e 30, 19 e 30 i parchi in via urbano e via turati che da questa settimana hanno riaccolto i bambini. Da lunedì prossimo sarà inoltre fruibile anche l'area ludica in villa comunale. La nostra area verde seguirà nuovi orari d'apertura. Si potrà accedere infatti dalle 6 e 30 alle 12 e 30 e dalle 17 7 alle 21. Gli amanti del nuoto invece dovranno ancora attendere. Come annunciato Sport Project, società acqua e affidata alla gestione, la piscina comunale sta cercando di adattarsi alle nuove linee guida di sport e salute e della federazione nuoto.